che comunque sono momenti belli questi da vivere insieme, tra l'altro ho ascoltato un bel po' di poesie veramente molto interessanti e Gino è venuto, prima mi ha detto vuoi leggere una poesia? Io mi presto, chiaramente non avrò la stessa padronanza delle nostre ragazze allora, non c'è un titolo, ma vi dico già che è di Candra Livia Candiani e dice, perdonatemi per gli occhiali ma si sono rotti da poco certe mattine al risveglio c'è una bambina pugile nello specchio, i segni della lotta sotto gli occhi e agli angoli della bocca la ferocia della ferita nello sguardo ha lottato tutta la notte con la notte un peso piuma e un trasparente gigante un macigno scagliato verso l'alto e un filo d'erba impassibile che lo aspetta a pugni alzati come sono solo gli adulti grazie io ne approfitto anche per salutarvi perché devo andare via e ci vediamo alla prossima spero che non sia solo questo